Ciao a tutti ragazzi, video che esce con un po' di ritardo come potete vedere dall'orario in cui l'ho registrato ma infatti alle 18 poi la partita finisce verso le 8, non ho molto tempo poi di fare il video post partita perché poi appunto vado a cenare. Oggi siamo qui per Italia Galles, ultima partita del girone prima di vedere effettivamente l'Italia alla fase eliminatoria di questo europeo. Dove affronterà appunto la vincente tra Ucraina e Austria, se dovessero pareggiare comunque l'Ucraina. Oggi abbiamo battuto 1-0 il Galles con la solita formazione 4-3-3, Donna Roma tra i pali, Toloi e Emerson sulle fasce quindi gente che comunque non ha giocato finora, Bonucci confermato insieme al nostro bastoncino, Pessina, autore appunto del Goal e autore anche di una autorevole prestazione, Giorginio Everatti al ritorno dell'infortunio che mi è piaciuto, Bernardeschi il rischiatore della giocata, Belotti e Chiesa. Il Galles invece ha risposto con questa formazione qui, Ward tra i pali, Rodon, Ampadu che poi è stato espulso per un duro intervento su mi pare Bernardeschi e Gunter, Roberts, Morrell, Allen e Williams, Tridente uno spento Bale, Ramsey e James. Dunque, partita fin dai primi minuti abbastanza, come dire, blanda perché le squadre si sono studiate e in fondo i classici inizi dell'Italia di Mancini, i classici inizi partita dell'Italia di Mancini. Poi però l'Italia ha avuto delle occasioni con Belotti, la più nitida, un tiro in diagonale sempre del Gallo che è andato fuori di poco e anche il Galles un'occasione con Gunter da palla inattiva. Comunque, dopo questo inizio appunto l'Italia alza il ritmo, appunto sulle rimesse laterali le batte subito, in fondo cerca sempre il passaggio in verticale, insomma una giusta mentalità senza fare biscotti, scansature, robe varie. Appunto, anche così si fa riconoscere una squadra seria che punta al top dell'Europa. L'Italia che, come dicevo, trova il gol con Pessina che su cross di Verratti da punizione devia sul secondo palo con un grandissimo inserimento e porta avanti gli azzurri, come c'è scritto qui. Sì, vero, gli arriva la palla, lui riesce a metterci lo stinco, riesce a metterci il piede e a metterla sul secondo palo. L'Italia che quindi chiude in vantaggio il primo tempo, secondo tempo dove dopo dieci minuti è stato espulso a Padù per quell'intervento lì su Bernardeschi. L'Italia, nonostante l'uomo in più, non è pericolosa molte volte, ma gestisce la partita in maniera buona, assolutamente. Il Galles, l'unica vera occasione è stata con Bale, non so se la fanno vedere qua. Sì, con Bale, non vedo un'occasione Galles cosa, che si trova da solo, però colpisce per fortuna dell'Italia male e la palla termina sopra la traversa. L'Italia, anche lei ha le sue occasioni, qualche parata del portiere World su Belotti, anche nel finale, una bella parata su Raspadori, queste cose qui. L'Italia che quindi sa di essere in superiorità numerica, una partita che non mi ha fatto emozionare più di tanto, ma era prevedibile, in fondo Italia già agli ottavi, sopra 1-0, non vorrà infliggere sul Galles, che comunque i britannici, non so se posso chiamarli così, però i britannici, ottengono un secondo posto del girone che li qualifica agli ottavi contro Russia, Danimarca o Finlandia. Quindi buon per loro anche. Italia che però noi dobbiamo essere contenti. Chiudiamo a punteggio pieno nel girone questa sfida, come ho detto, dopo l'uomo in più la gestiamo bene. Tranquillità nel palleggio, Galles che non ha neanche provato tanto ad attaccare. E dunque questa partita finisce così. Punteggio pieno nel girone, infatti se andiamo a vedere, la Svizzera ha battuto 3-1, la squadra più ostica del girone, ovvero la Turchia. La classifica è questa qui, questo è il gruppo B e noi andremo ad affrontare la vincente tra Ucraina e Austria, come potete vedere. Giocano domani alle 18. E niente ragazzi, io non ho più nient'altro da dire. Una partita, altra partita vinta degli Azzurri a loro 2020. Speriamo bene per la fase eliminatoria e io non mi dilungo oltre sempre Forza Azzurri e ciao a tutti.